Qua è? Monteranno i fondi a disposizione per questi servizi per avvenire meno ai tagli che sono stati effettuati soprattutto dal Governo centrale negli ultimi anni e attenzione quindi ai servizi che quotidianamente offriamo ai cittadini. Il risanamento dei conti dello Stato attraverso l'Imu chiederà un contributo alle famiglie e alle imprese che i comuni cercheranno di attestare sul livello più basso possibile salvaguardando per esempio le famiglie rispetto a quanto pagavano 10 negli anni passati nel 2007.